Aggiungere link ipertestuali a singole parole Per prima cosa, dopo essere entrati sulla parte di gestione del sito, è necessario digitare una parola e poi selezionarla. Una volta selezionata, è necessario cliccare sul link sul bottone a catenella in alto e vi apparirà questa nuova finestra su cui è possibile scrivere il sito a cui volete collegare la parola che avete precedentemente selezionato e scegliere se farla aprire in una nuova finestra o nella stessa in cui c'è la pagina. Una volta aggiunto, si clicca su aggiungi link e la parola si trasformerà in un link ipertestuale da cui sarà possibile accedere ad un'altra pagina web.